Ok, allora io direi che possiamo riprendere, magari riprendiamo in maniera un po' lenta, così diamo tempo a chi non arriva subito anche di collegarsi e di fare tutto. Intanto vi resta tutto registrato e in questi momenti io comincio piano piano a farvi vedere qualcosa che appunto vi resta registrato e che comunque serve diciamo a preparare il tutto per provare ad usare il database nella forma di file in formato SQLite. Quindi andiamo a prendere con il nostro Visual Studio Code, andiamo ad aprire una cartella che vi metteremo a disposizione, in cui come vedete ci sono dei file che si chiamano SQLite. Io ho semplicemente aperto una cartella, non ho fatto niente di particolare. Data SQLite, transcript SQLite. Sono due file SQLite. Ovviamente a meno di plugin non sono apribili in Visual Studio Code perché sono dei file binari. quindi non stiamo facendo niente di particolare. Abbiamo aperto una cartella con dei database fatti in formato SQLite. Allora come facciamo a gestirli? Bene, io ho scaricato un programma che è disponibile per tutte le piattaforme che si chiama DB Browser for SQLite. Quindi un programmino che gestisce il file in formato SQLite, solo che lo fa in forma grafica ed è un po' più comodo di andare a manipolarlo con le SQLite. In realtà l'avevo già aperto, ecco. Quindi qui ho aperto il file transcript SQLite che vi mettiamo a disposizione, ma che potete creare anche voi facendo new database e salvando il file poi. Piano piano che tutti si ricolleggano. Quindi lo vedrete con dei caratteri un po' più piccoli, eccetera. Io ho cercato di fare in modo che sia tutto più leggibile nella lezione e nella registrazione. Quindi, in questo file SQLite trovate un database. E che cos'è un database? Un database è un insieme di tabelle. Qui ci sono due tabelle, purtroppo questo non si può ingrandire. C'è la tabella course, il corso, con tre campi, codice, nome e crediti. E c'è la tabella score che sono i voti, tre campi, course, code, score, load e data in cui è stato passato l'esame. Ma giusto per fare un esempio, niente di particolare. In browse andiamo a vedere le due tabelle, che ovviamente potete andare a tirare, ad aggiustare come volete. C'è un programmino come un altro. C'è per Windows, Linux, Mac, tutto quanto. Anche perché questo formato non è così particolare. È standard, è facilmente gestibile. Bene. Questo ci consente di andare a fare degli esperimenti. Quindi abbiamo questo file, il database, e quindi andiamo a prenderci queste poche righe che troviamo anche sulle slide. Quindi questo è solo per dire database. Queste poche righe che ci consentono di fare una query. Proviamo a fare la nostra prima query usando SQLite, facendo tutto il necessario. Quindi aprendo il database e dando la callback giusta a chi deve aprire il database e dando la callback giusta a chi deve ritornarci la tabella. Il codice è questo, che è lo stesso di quello che trovate nell'esempio che stiamo guardando. Quindi, use strict va bene. Const SQLite requires SQLite 3. Ecco, questo è il primo, chiamiamolo problema, se volete. Nel senso che prima di usare un nuovo modulo, quindi in questo caso SQLite 3, va installato. Come facciamo? Vi ho già fatto vedere l'altra volta per il DayJS. Allora, facciamo. Io direi che la cosa più semplice in questo momento è andare sul terminale. Magari voi siete sulla debug console, sull'hub, andate sul terminale, se non c'è, c'è new terminal. E facciamo quei due comandi che abbiamo visto l'altra volta, npm init. Questi comandi ce li avete nel momento in cui avete installato node. Npm init. Diamo un nome, ma sì, quello che vuoi. Va bene SQLite, di solito prendi di default la cartella, ma va bene. Npm init, è spuntato un file suo che si gestisce lui, il package JSON non mi interessa in questo momento. Npm install SQLite 3. Giusto per farvi vedere, prima di farlo, vi faccio vedere cosa succede nel momento in cui eseguissimo senza aver installato. Cannot file module SQLite 3. Quindi, cosa non va, è abbastanza ovvio. Npm init e SQLite 3. Questo comando deve essere eseguito con internet attivo, perché va a scaricarselo da internet. Lo eseguiamo, ci mette un attimino, speriamo non troppo. Scusate, ho sbagliato. Chiedo scusa. Install, ovviamente. Init è solo all'inizio. Per creare l'ambiente in cui possiamo mettere i nostri pacchetti. Come vedete, magari ci mette un attimino, perché SQLite 3 si porta dietro altri moduli, neanche quelli di SQLite 3 si sono reinventati tutto quanto da zero, avranno usato altri moduli. E tutto questo è gestito automaticamente, a noi non interessa. Alla fine, deve esserci SQLite 3. E quindi, se eseguo... Adesso questo forse non... Sì, diciamo, se eseguo, qualcosa funziona. Adesso andiamo a vedere poi che cosa è stato... Che cosa... Clear. Che cosa viene fuori. Però prima ragioniamo sul programma. Quindi, ci siamo portati nella condizione di poter eseguire il programma che usa SQLite 3. Numero uno. Se no, non possiamo provare nulla. Poi, codice che abbiamo visto. DB uguale new SQLite 3 database, nome del file, callback con l'errore, trower. Va bene. Se volete, siete curiosi di vedere cosa succede, cambiate il nome che mettete come parameter e vedete cosa succede. Adesso non facciamo tutto, se no non finiamo più la lezione. Però, questa è una curiosità legittima, no? Allora, io vi farei vedere, prima di tutto, il codice senza quest'ultima parte. Quindi, il codice normale. SQL uguale select asterisco from course left join score on course code. fate una join, fate la left join, fate quello che volete. Diciamo, a noi che sappiate programmare più o meno bene in SQL interessa, diciamo pure zero. Perché? Perché avremo quattro dati da gestire, quindi qualsiasi cosa facciate in SQL, onestamente, va benissimo. Basta che, insomma, sia ragionevole e funzioni. Quindi, cos'è una left join? Vabbè, abbiamo messo le due tabelle insieme e ci viene restituito un risultato, ma potevamo fare una normalissima select asterisco from course. Non fa niente. Come funziona? DB all, voglio tutte le righe del risultato. SQL è la query, quel parametro opzionale non c'è. Perché? Perché non ci sono punti interrogativi nella query, no? Quindi non è una query che ha bisogno di un parametro. Non sto andando a cercare se c'è un certo utente, cose di questo tipo. Callback, R, rows, freccia, aperta, graffa. Certe callbacks possono essere anche grandi, no? Come codice. Anzi, questo è proprio un problema, quello che affrontiamo adesso ragionando sulle callbacks. If R, throw R, va bene. Gestire l'errore è qualcosa che, diciamo, vorremmo sempre fare. Però consentiteci all'inizio di lasciarlo in maniera un po' grezza. Poi negli esempi che vedrete più avanti ci sarà una gestione un po' migliore. For let row of rows. Console.log.roll.result.push.row. Cosa fa? Stampa e fa push in un array. Va bene, no? Cosa c'è che non va? Infatti non c'è niente che non va. Proviamo, salvo. Lo provo. E nel DB, ve l'ho fatto vedere prima che cosa c'era. C'erano, questa è l'altra tabella. Ci sono sette righe. Code name CFU. E poi c'era lo score, no? Con course code, score, loud, date, past. Era una left join. Quindi era una join. Alla fine mi ha tirato fuori tutti i corsi con... Ce ne sarà uno che ha il voto, no? Computer architecture avevo preso 25. Vabbè, una join su SQL, abbiamo fatto quello che siamo abituati a fare, no? Ok, bene. Tanto per non vedere proprio select asterisco phone course, che è veramente banale. Ma di nuovo, ci interessa fino a un certo punto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il risultato in un array. Perché prima o poi ci servirà, avremo array map, array qualcosa per, che so, visualizzare l'utente. Per ora ce li abbiamo nella memoria del calcolatore, no? Quindi siamo in un ambiente di sviluppo, modo testo, e quindi più che stamparli a video. Però li mettiamo in un array per poterli poi elaborare. E allora elaboriamoli. Console log, virgolette, poi ce li stampiamo. Proviamo e vediamo cosa succede. Ok? Quindi io faccio l'asterisco e dopo stampo l'array. Facciamo la prova. Ecco, onestamente mi sono stufato di fare run and debug. È così. Facciamo un create. Vedete che qui sotto c'è. Nel momento in cui avete creato un progetto e questo progetto ha dei moduli, ha il vostro file da eseguire, eccetera, potete creare un file per lanciare il progetto. Qui ve lo fa automaticamente. Quindi non ho cliccato su run, clicco su node. Fa tutto da solo. Salva, l'unica cosa a cui dovete fare attenzione. E qui forse c'era già. E questo è il file da lanciare. Transcript. Transcript, sì. Ok. Lo chiudo. Cosa cambia rispetto a prima? Che adesso non c'è più quel bottone brutto. Ma c'è, lancia il programma. E quale programma viene lanciato? E quello che c'è scritto in... Dove è andato? Dovrebbe esserci il launch.json. Sì, ecco, in business. Launch.json. Transcript. Ok? Questo è utile nel momento in cui, appunto, avete un progetto, state lavorando su un progetto, così avete un bottone, finisce lì senza dover fare tante scene. Ok. Vediamo l'esecuzione. Cosa è successo? Ecco. È successo un piccolo pasticcio. Perché? Perché come funziona il meccanismo? Cosa ho scritto? Cerco di capire quello che ho fatto. Allora, io ho aperto database. Va bene. Poi ho creato un array e fino a qui non c'è problema. E poi eseguo questa query. Questa query nel momento in cui avrà finito, mi esegue console.log result push. E poi, e poi, e poi non mi fermo. Non mi fermo ad aspettare che DbAll chiami la callback. Perché DbAll, come dicevamo prima con uno dei vostri colleghi che ha fatto la domanda, DbAll prende una callback asincrona. E quindi verrà chiamata quando le operazioni sono finite. Ok? E quindi il codice cosa fa? Il codice va avanti. E dopo cosa c'è? C'è console.log asterisco. E dopo che cosa c'è? E dopo c'è forra su results console.log. E quindi ha preso results e l'ha stampato. Ma il fatto che results fosse già riempito o no, dipende dal fatto che la callback fosse stata chiamata e avesse finito. E ogni volta che lo eseguiamo potrebbe succedere una cosa diversa. Perché? Perché magari ci mette di più, ci mette di meno il database. Che so, per esempio se lo eseguiamo dal terminale, che è un po' meno macchinoso, del debugger, viene fuori più roba. Prima gli asterischi e poi, e poi che cosa? E poi non questa stampa qua. Perché non è doppia la stampa. Sono 3, 4, 5, 6, 7. E poi viene fuori questa stampa. Se io tolgo questa stampa, vi faccio vedere. Quindi faccio clear. Vengo fuori gli asterischi. L'array è vuoto. Se io non aspetto che la callback abbia finito, l'array è vuoto. E quindi il mio codice va avanti. For let, no, non c'è niente da stampare, fine. Finito. Il node non ha finito, perché il node aspetta che la callback venga chiamata, la callback viene chiamata e viene fatta push. Fine. Dopo un po', results si riempie. Ma il mio programma qui ha già eseguito il for della stampa, e quindi non c'è più niente da stampare. Non mi stampa più niente. La stampa funzionava perché la stampa l'ho messa qui. Prima, quando l'ho eseguito nel debugger, è successo un pasticcio ulteriore perché è stato ancora più lento. Allora, come faccio? E come faccio? Non c'è alternativa a prendere questo pezzo di codice e buttarlo via. Cioè non c'è niente da fare. Se io proprio voglio farlo eseguire quando ha finito la callback, e lo metto nella callback, se io lo prendo e lo metto nella callback, e l'ho formato anche un po' meglio, c'è un bottone format document, ctrl shift E, giusto per vederlo un po' decente, proviamo e adesso funziona, e adesso funziona come ce l'aspettiamo. Perché? Perché nella callback, una volta che la callback è chiamata, c'è quella in esecuzione e quella viene eseguita correttamente, passo dopo passo. Si è fatta tutte le push, me l'ha messa nell'array, allora io poi prendo e stampo l'array. Funziona bene. Quindi abbiamo capito come usare una callback asincrona, però abbiamo capito anche che dobbiamo scrivere tutto nella callback, e questo è un problema. È un problema nel senso perché ci complica il codice. e passiamo il resto del tempo di questa mattina a capire come risolvere questo problema. Perché è un problemone a cui però hanno trovato una soluzione. Quindi siamo riusciti a eseguire questo codice, abbiamo fatto insieme, abbiamo caricato database, abbiamo eseguito la nostra query, fatelo con una query più semplice se questa mi dà fastidio, ma l'importante è che abbiamo capito bene come funziona la callback, cioè è dentro la callback e abbiamo il risultato. Non prima, non lo sappiamo prima. Prima ci va di fortuna, prima non ci va di fortuna. Ma anzi, scusate, prima non ci può andare di fortuna, perché abbiamo detto che JavaScript è asincrono. Scusate, sì, asincrono, che vuole anche dire, abbiamo detto anche che JavaScript è single-threaded. Quindi se stai eseguendo qualcosa, non è che la callback può essere eseguita immediatamente, viene messa lì in attesa e la prossima cosa ad essere eseguita. C'è una coda di cose da eseguire, di funzioni da eseguire, che tipicamente sono le callback asincrone. E in più nel browser, quando saremo nel browser, ci saranno quelle agganciate agli eventi. Ok, quindi questo è l'esempio che abbiamo visto al volo. E questa roba non funziona. Non funziona perché questo pezzetto di codice sotto è eseguito prima di aver fatto il results push. Quindi, occhio, che se io faccio una cosa ancora più complicata, che so, faccio due query, più query, insert dentro numbers, values, eccetera. Poi faccio select, no? E tutto funziona a callback. Se non faccio più che attenzione e scrivo il codice più che bene, non funzionerà nulla. Ma scriverlo più che bene vuol dire fare un pasticcio che non finisce più. Vi faccio vedere... Sì, queries.js. Quindi quella di prima. Nella stessa cartella troverete poi questo queries.js, che però prima di darveli, appunto, per se no li provate, poi uno dice ma non funziona niente, eccetera. Quindi facciamo 100 inserimenti in... Abbiamo un database a parte, data SQLite. Apriamo, c'è così, vedete cosa c'è dentro. Open database, data SQLite. Semplicemente un'unica tabella, una colonna numbers, c'è di tutto, ci scriviamo, una chiave primaria, quindi ogni volta che facciamo insert viene creato una nuova riga. Quindi, ecco, per eseguirlo vi ricordo, visto che abbiamo fatto il launch JSON, queries. Questo per eseguirlo nel... con il debugger. Quindi quando premo il bottone, lui mi esegua automaticamente quello che ho messo. Posso anche fare più di una copia, più di un... più di una configurazione e mettercene, e allora mi escono qui. Però non mettiamo troppo a carne al fuoco. Quindi facciamo una prova. Debug console. Ah, però io non vi ho aperto il codice. Devo aprire il codice. Quiris. Ok. Quindi dovrebbe eseguirci Quiris. Program. Ok. Mi sputa fuori i vari valori, no? Perché semplicemente c'è un console log che mi dice dopo il select count asterisco a stot e quante righe ci sono, no? Notate cosa viene fuori. Che pasticci vengono fuori. Mi viene tre volte 1641. Questo tre vuol dire che ci sono tre righe 1641. Ce li è compatta per comodità. Questo è solo l'ambiente di esecuzione. Quindi il Visio Studio Code. Notate che mi ha saltato il 1613. Mi ha stampato due volte 1614, eccetera. Un pasticcio che non finisce più. Perché? Perché le Quiris sono eseguite in maniera asincrona. e dobbiamo mettercelo ben in testa. Quindi dobbiamo fare in una maniera diversa. Bisognerebbe che, se noi vogliamo l'ordine, fai una cosa, quando hai finito fai l'altra, fai una cosa, fai l'altra, bisognerebbe che nella callback, qui, ok, if r, throw r, se non c'è r, esegui l'altra query. E dopo aver eseguito l'altra query, nella sua callback, se non c'è r, vabbè, fai la stampa se proprio ti piace. Però puoi andare avanti e fare la successiva insert. Ma un modo di programmare è completamente diverso. E chiaramente non ne uscite più. Questo è un ciclo, abbiamo messo 100. Quindi dovreste scrivere 100 volte la stessa cosa. Questa è la maniera corretta di farlo. E questo è quello che succede. Ogni tanto viene eseguita prima una, poi l'altra, e quindi il risultato è che ci sono i doppioni, ci sono i buchi e così via. Questo vuol dire asincrono. E bisogna trovare un modo di programmare in maniera che questo funzioni come desideriamo noi. Quindi scriverla così è scorretto. Quindi la soluzione sarebbe, come vi dicevo, mettere quello che c'è sotto in R, e quindi nell'else, scusate, nella callback. E poi quello che c'è qui di sopra. Cioè quello che c'è qui, quello che dovremmo scrivere qui è quello che c'è scritto qui. E questa è la messa al professor Corno. Alcuno sa cosa vuol dire. E come faccio? Tradotto in italiano educato. Bene, io vi faccio intravedere questo file che poi vi mettiamo a disposizione, ma siccome non è quello che vogliamo che facciate, e abbiamo una soluzione migliore, lo guardiamo ma ce ne dimentichiamo. anzi, lo intravediamo. Siccome è una cosa dentro l'altra, e ovviamente sono un programmatore, non posso pensare di scrivere cento volte la stessa cosa, perché la volta che ne ho bisogno di diecimila, come faccio? Bene, posso fare una cosa che ha un metodo next, che a seconda dello stato in cui sono, ma notate che uno, devo ricordarmi lo stato, va a fare o l'insert o il print, e in ognuna delle due callback vado a chiamare la stessa cosa che il next. Ok? Gli dico quante volte farlo e ho risolto il mio problema. Anzi, a dire la verità, qui era rimasto ancora un bug perché il dbclose andava poi messo qui con le graffe. Comunque nella versione che vi mettiamo online poi è corretto. Quindi, giusto perché. Quindi questa sarebbe la versione corretta, giusto perché stiamo registrati. Però io onestamente la chiuderei qui. Abbiamo in trevista e non è la soluzione che vogliamo, perché c'è da diventare matti. Andiamo allora a vedere che cosa vogliamo. La soluzione al nostro problema è quello di usare le promises, che sono un argomento effettivamente un po' complicato, ma cerchiamo di semplificarlo il più possibile, e sono quello che ci risolve tutti i problemi di programmazione asincrona. E in più abbiamo detto che bisogna saperle anche perché le primitive, quindi le funzioni moderne disponibili nei browser, quando sono asincrone, quasi sempre usano le promises. Quindi dobbiamo assolutamente capirle. Cosa cercano di risolvere le promises? Il cosiddetto callback hell, cioè l'inferno delle callback. Il fatto che se dobbiamo aspettare che un'azione sia terminata per farla un'altra, bisogna infilarla nella callback. Oppure usare un meccanismo paccioccato, complicato, come quello che abbiamo appena intravisto, in cui ci facciamo un metodo che è un if solo per decidere che cosa bisogna fare dopo. Quindi dobbiamo mantenerci uno stato, tutto un pasticcio che non finisce più, perché lo stato può anche essere complicato. Lì era facile, o l'una o l'altra. Qui è, ho fatto la prima, ho fatto la seconda, ho fatto la terza, eccetera. Faccio una domanda, poi ne faccio un'altra, poi ne faccio un'altra. Siccome l'input è asincrono, devo sempre o infilarlo nel codice della callback, e quindi callback sempre più annidate, oppure trovare una soluzione differente. Quindi il codice comincia a diventare veramente complicato molto rapidamente, perché si aggiunge un livello di annidamento ad ogni nuova cosa che devo fare. Quindi le promises sono un meccanismo fondamentale del linguaggio che è stato inventato per semplificare la programmazione asincrona, che ci consentono sia di risolvere questo problema del callback hell, cioè l'annidamento delle chiamate all'interno di fatto del codice della callback, e anche un modo di scrivere, diciamo, nuove funzioni asincroni in maniera molto più semplice, che è stato introdotto però da una versione di JavaScript più recente, S2017 che vi ricordo da S8, ECMAScript 8, però sappiamo che, diciamo, con qualche trucchetto possiamo eseguire anche nei browser e nei sistemi che non lo supportano, e con il polyfill, quindi con le librerie che ce lo implementano, oppure con una traduzione in codice vecchio. Cos'è una promise? È un oggetto che rappresenta il cosa succederà della operazione asincrona che andiamo a fare, che può terminare in due modi, o ha diciamo successo, quindi è completata con successo, oppure è completata con un fallimento. Quindi inizia in uno stato, che è lo stato iniziale, e poi ci dice se è avvenuto un errore, allora in quel caso ci dirà cos'è capitato, oppure ci dà un risultato, cioè viene completata, diciamo, correttamente, come nel caso di prima, non so, la query ci dà il suo risultato, oppure viene completato con un errore e ci dà qual è l'errore che si è verificato. Quindi una promise è un qualcosa che ci può essere ritornato da una funzione, e ritornato, notate bene, immediatamente, però non ha un valore, non ha ancora il valore, perché io non so se avrà successo o non avrà successo, e se ha successo non so, ovviamente, ancora qual è il valore. Quindi, di fatto, le promise sono un meccanismo che standardizza la gestione degli errori nel caso delle chiamate asincrone. e il bello è che sono state pensate in una maniera che siano facilmente gestibili e concatenabili, e quindi ci risolvono anche quel problema del callback hell, del mettere l'una dentro l'altra le chiamate annidate alle operazioni che devo fare, perché? perché devo metterne nelle callback. Ok, le promise possono essere create e le crea chi deve restituire immediatamente il valore, il valore nel senso che in realtà non è un valore, è un oggetto, è un qualcosa che ti dirò poi cosa vale. E poi possono essere consumate. Quando sono consumate e le posso consumare solo quando effettivamente si sa qual è il valore, cioè c'è stato l'errore oppure c'è un valore di ritorno, un valore che è quello che diciamo mi doveva ritornare alla funzione quando l'ho chiamata inizialmente e e allora una volta che ho il valore vado avanti con la mia elaborazione e vedrete che il meccanismo è relativamente semplice da scrivere ed è questa la forza del sistema delle promise quindi una promise inizia in uno stato cosiddetto pending cioè io te la do è come una scatola in cui non c'è ancora scritto niente però sai che ad un certo punto ci sarà scritto qualcosa il risultato errore o o tutto ok e tutto ok e in entrambi i casi anzi c'è c'è un un dettaglio il dettaglio sull'errore o il dettaglio sul risultato come nel caso che abbiamo visto prima la una volta che ho ricevuto la promise il codice va avanti cioè una funzione ritorna una promise che è un oggetto alla fine un oggetto javascript però che è già stato creato da qualcuno è già standardizzato ci ritorna la promise questo oggetto e poi il codice va avanti su scritto del resto il codice va avanti quindi ho poi un meccanismo per agganciare una funzione nel momento in cui ci sarà il risultato della promise cioè la promise sarà cosiddetta risolta cerchiamo di vedere il codice perché altrimenti sono parole troppo astratte quindi una promise è facilissima da creare c'è un metodo costruttore new promise che è già a disposizione se il sistema supporta le promise come node come praticamente tutti i browser oramai facciamo new promise e abbiamo creato una promise e poi semplicemente la useremo cosa si aspetta come parametro una il costruttore della promise si aspetta una guardate caso col back che però qui chiamiamo in maniera un po' più stilosa una funzione esecutrice che esegue quello che deve fare la promise e che quindi ha due parametri un parametro che è la funzione da chiamare nel caso in cui venga risolta cioè non ci sia errore e il secondo parametro è la funzione da chiamare se c'è un errore ok queste funzioni vengono chiamate con dei parametri che sono rispettivamente il valore che di cui avevo bisogno in caso di non errore cioè in caso in cui tutto vada come deve andare ad esempio prima le varie righe l'array con le righe della tabella oppure il valore dell'errore di solito un oggetto di errore o anche solo una stringa con il messaggio di errore quindi voglio creare una promise faccio in questa maniera new promise aperta tonda resolve virgola reject quindi parametri di una funzione questa executor function freccia il codice ovviamente qui dovevo scrivere del codice perché se scrivo così non vuol dire niente scrivo del codice che prima o poi chiamerà o resolve se è andato tutto bene o reject se è andato qualcosa non bene quindi per esempio qui faccio db all eccetera eccetera e nella callback faccio resolve se è andato tutto bene o reject se c'è stato l'errore quindi vediamo un esempio reale function wait che mi ritorno una promise quindi come inizia ma è semplicemente inizia con un return return new promise cosa passo resolve reject sempre così questo pezzo è sempre uguale aperta tonda resolve reject magari l'ho trovato abbreviato però resolve reject freccia aperta tonda del codice che mi dice che cosa fare per risolvere la promise quindi se qui vogliamo fare una funzione che aspetta un certo tempo no duration diciamo questo dunque cosa fa set timeout quindi sono i millisecondi no perché abbiamo visto set timeout prende i millisecondi va bene quindi faccio function wait allora se duration è minore di zero beh è un errore qui scherzosamente hanno scritto già nel tempo non è ancora implementato vabbè comunque lasciamo perdere semplicemente ha creato un oggetto di errore potevo ritornare anche semplicemente la stringa però ho chiamato la reject vedete è quella in grassetto reject che è il parametro della executor function ok altrimenti set timeout resolve duration duration è quello che mi viene passato quindi non chiamo neanche io la resolve dico la set timeout di chiamarla dopo un tot di tempo ok posso farne cosa voglio del parametro che ricevo questo è un parametro per javascript è trasparente che sia un array una funzione un oggetto qualsiasi cosa è trasparente in particolare è trasparente se una funzione quindi mi viene così comodo e quindi lo posso passare ad altre funzioni quindi voglio creare una promise tramite una funzione fare una funzione che ritorna una promise è facilissimo return new promise e dentro ci scrivo il codice punto ok veniamo al consumo della promise cioè vabbè ho creato una promise dirai vabbè e ti ha ritornato un oggetto cosa te ne fai bene per usare l'oggetto devo fare questa cosa l'oggetto che mi ritorna una promise questa è la funzione di prima esistono sulla promise per come è implementata all'interno di node del browser eccetera due anzi tre metodi vedremo due qui sono den e catch il den prende di nuovo per cambiare una callback da eseguire nel momento in cui la promise viene risolta con successo cioè viene chiamato resolve il catch prende di nuovo una callback da eseguire nel momento in cui la promise viene risolta con reject quindi nel primo caso in inglese si dice fulfilled e nel secondo rejected e quindi corrispondono i due metodi di prima resolve reject quindi si usa scrivere resolve reject nel senso che se si risolve si sottintende che non c'è stato errore però forse sarebbe stato meglio chiamarlo fulfill reject l'uso quindi den e catch sono metodi dell'oggetto promise ma noi non interessa ne ha già fatti qualcuno per noi ogni funzione è registrata tramite il den e viene eseguita solamente una volta nel momento in cui la promise viene risolta quindi abbiamo anche questa garanzia il catch è opzionale se non ci interessa gestire l'errore non mettiamo il catch e non viene fatto nulla e notate che tutto è concatenabile perché ho scritto den aperta tonda chiusa tonda del den punto catch e quindi vedremo che il bello della promise è che posso mettere tutte le azioni che voglio fare concatenandole scrivendo del codice sequenziale non annidato e quindi evito quell'annidamento che vedevo prima ok quindi se vogliamo fare come prima dunque wait ecco wait quella di prima 1000 then console.log success catch console.log error ok due punti con il messaggio o l'oggetto quello che vuoi ok adesso non ho preparato questo esempio quindi se faccio un po' più in colla perdiamo troppo tempo ma intanto ce ne sono degli altri se lo provate quindi definite la funzione della side prima e poi eseguite questo codice vedrete che succede che aspettate un secondo e poi viene fuori la stampa success ok solo che il codice della funzione di prima è passato oltre quindi non ci siamo bloccati lì dentro e non abbiamo dovuto scrivere la callback del codice della funzione di prima l'abbiamo scritto qui che cosa fare nel then ok occhio che non dovete dimenticarvi la parte iniziale mi raccomando perché è un errore è l'errore più comune scrive console.log success no then prende una callback non prende un valore se ci mettete un valore non funziona più perché viene immediatamente chiamato e viene stampato subito ok quindi consumare la promise then catch oppure c'è il finally se volete è simile alla storia delle eccezioni ma queste non sono eccezioni sono il meccanismo del funzionamento della promise quindi il then nel caso in cui tutto vada liscio il catch nel caso in cui la promise vanno nello stato reject e quindi viene chiamato il metodo reject e il finally viene eseguito comunque perché come nel caso delle eccezioni magari c'è bisogno di far qualcosa comunque di ripulire alla fine eccetera e quindi c'è anche questo finally e in più c'è anche la possibilità di scrivere tutto nel then ma un dire la verità questo è usato poco notate che tutti i metodi ritornano delle promise questo consente di fare la concatenazione che vedevamo prima punto then aperta tonda chiusa tonda punto catch aperta tonda chiusa tonda potevo anche punto final aperta tonda eccetera tutte ritornano promise a loro volta per consentire questa concatenazione quindi cercando di rassumere con uno schema che spero sia il più chiaro possibile const prom promise uguale new promise dobbiamo passare una funzione con due parametri risolva reject fare quello che intendiamo fare e chiamare alla fine quando abbiamo finito risolva reject per esempio qui c'è la query a database cioè la set timeout cioè quello che vogliamo che ci impiega un po' nel momento in cui la la usiamo then e scriviamo il codice che vogliamo essere eseguito quando va tutto bene catch e il codice da eseguire quando qualcosa non va bene e x e y in i parametri che prendiamo sono quelli che passiamo nelle chiamate resolve reject possiamo passare quello che ci pare tanto javascript è libero in quel senso se vogliamo passare i due parametri ne possiamo due ne possiamo uno ne possiamo uno non dobbiamo predefinirli ma questo oramai l'avrete capito c'è una domanda benissimo meno male perché stavo cominciando a preoccuparmi la funzione che ritorna alla promise viene eseguita semplicemente chiamandola poi però se non si usa then non si aspetta l'esito di quella funzione quindi lo scopo della then è di aspettare l'esito della funzione in modo da elaborarlo giusto? eh sì 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 se noi non mettiamo il then abbiamo creato una promise e non diciamo non ci interessa fare nulla quando finisce però allora finisce un po' lo scopo di creare la promise no? è come se nella callback non avessimo niente da scrivere allora perché ci inventiamo tutto questo problema quindi proseguo nella lettura cioè la funzione viene comunque eseguita ma non si ma se non si concatena then in pratica non viene aspettata per farci qualcosa con il risultato eh sì sì l'unica cosa che correggerei non è che viene aspettata no? è che quello che c'è scritto qui quindi il codice qui use x o use y viene eh messo in coda per essere eseguito quando javascript avrà tempo eh quindi non è viene aspettata che è un po' diverso però il senso è quello cioè io eh ho la promise mi viene ritornata la promise immediatamente perché il senso è ritornare immediatamente per poter dire immediatamente che cosa fare poi in futuro e che cosa fare in futuro è quello che scrivo qui use x use y eh è un po' è più un po' sticipare l'esecuzione esattamente proprio quello che facciamo peraltro quando passiamo una callback a qualcuno e questa callback viene eseguita in maniera sincrona però il meccanismo qui è più pulito no è più pulito perché almeno una volta che uno ci ha preso la mano è un po' più chiaro no leggo then e so che una volta che sarà risolto tutto andrò a eseguire quello che c'è scritto in then ok ok grazie per l'interazione perché stavo cominciando a seriamente a preoccuparmi che insomma non ci fosse più nessuno che 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 seguisse ecco che che diciamo fosse al passo con la spiegazione più che altro seguisse vedo che siete in tanti eh la cosa interessante come vi ho già accennato è che posso concatenare le cose then 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 e automaticamente una volta che la promise precedente del then precedente è risolto posso iniziare a eseguire l'operazione successiva attendere che sia eseguita l'operazione successiva quindi posso fare una catena lineare non più annidata come prima eh sono punto then punto then punto then posso anche ordinare un po' bene mettere a capo e quindi get repo info ok una promise then una volta che ho il risultato del get repo info then repo freccia get issue repo cioè chiamo qualcos'altro di asincrono se questo è asincrono mi ritorno una promise questa di nuovo viene passata come risultato then issue get out eccetera cioè qui quando io eseguo questo codice per la prima volta questo codice viene eseguito tutto subito no il get repo info then 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 quello che c'è dentro no quello che c'è dentro no ma il then 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 sì e si è registrato una catena di cose da fare nel futuro mano a mano che verranno risolte ecco le loro dipendenze le dipendenze sono prima devi risolvere la precedente quando hai la risposta me la dai come parametro io ci faccio una seconda chiamata quando hai la risposta me la dai come parametro io ci faccio una terza chiamata e così via e vado avanti così senza dover annidare le operazioni cioè ho evitato quel callback hell di prima ecco una cosa importante da ricordarsi per fare la catena è che devo sempre restituire qualcosa perché questo qualcosa che io restituisco qui è ciò che arriva come parametro al then successivo mi raccomando quindi queste sono arrow function hanno un solo elemento e quindi questo elemento è il valore di ritorno se all'inizio siete un po' in confusione aprite una graffa scrivete return get issue chiudete la graffa funziona uguale mi raccomando sono valori di ritorno perché altrimenti la den successiva non ha niente su cui operare che tipicamente se annido tutto è nello scopo più esterno che ho già la variabile non ho bisogno di passarla ma qui siccome sono funzioni indipendenti ho bisogno di avere il parametro che deve essere quello che è stato fatto calcolato al giro precedente ok qui è giusto per farvi vedere un esempio ovviamente non conosciamo buona parte di queste questi oggetti e funzioni però solo per farvi capire che quando andiamo poi nell'ambito web abbiamo la fetch nel browser che ritorna alla promise e allora io poi scrivo then status e status è una callback dovevo vedere se il risultato dell'operazione in caricamento assincrono di un URL questo URL è 200 200 qualcosa che vuol dire che tutto è andato bene allora mi fa return promise resolve con la risposta la risposta mi viene passata come parametro alla funzione json cioè viene qua nella funzione json come parametro al parametro mi fa il parsing supponendo che la risposta fosse in formato json il metodo json è un metodo che ritorna una promise e quindi posso scrivere appunto then nella riga successiva prendere i dati e finalmente farne quello che mi pare quindi console log eccetera ed eventualmente gestire l'errore col punto catch non andiamo troppo nel dettaglio perché appunto tanto non abbiamo visto la fetch non abbiamo visto il status eccetera e non ne vale la pena non abbiamo ancora parlato di json e tutto però sappiate che poi è fondamentale capire tutto perché lo dobbiamo usare e è sicuro al 100% che all'esame nella vostra applicazione dovrete scrivere questo da qualche parte perché la vostra applicazione naturalmente andrà a fare dei caricamenti asincroni del server con la fetch quindi va capito ovviamente oggi non riusciamo a capire come farlo nel web però prima o poi con gli esempi con tutto riusciremo oggi mettiamo le basi con le promise posso fare anche cose più complicate quindi fare promise in parallelo e quindi chiedere di eseguire due operazioni in parallelo e aspettare che entrambe siano terminate oppure semplicemente che almeno una sia terminata qual è l'esempio l'esempio è proprio appunto quello del web devo caricare due risorse non so quale arrivi prima come se io scrivo prima quella più lenta e dopo quella più più veloce devo aspettare prima quella più lenta per caricare l'altra è vero che alla fine devo aspettare entrambe però per esempio in fase di visualizzazione all'utente se io ho già dei dati non posso visualizzarli no mentre se invece le eseguo in parallelo quindi io faccio due richieste in parallelo il browser può fare due richieste in parallelo e solo il codice javascript non può processarle processare il risultato in parallelo però col pro misol non è che devo per forza fare prima una e poi l'altra io le faccio andare in parallelo e poi la prima che arriva mi scatena il suo den e e quindi posso risolvere diciamo il problema del parallelo processando i dati mano a mano che arrivano c'è una domanda intanto che forse è già da un attimo che è lì per permettere la catena le callback devono restituire una promise nuova e diversa sì 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 o lo faccio io a mano quindi posso farlo col metodo statico quindi promise resolve promise reject oppure fare return new promise come abbiamo visto prima oppure sapere che il metodo lo fa già per me ok per esempio come il json punto json chiaramente che funziona solo su response perché response è se io ho caricato tutto quello che devo caricare eccetera ha questo metodo json che mi consente di parsificare la risposta in formato json qui lo dico e qui lo nego diciamo funziona anche con i valori diciamo con semplici valori non con delle promise che sono sempre risolti diciamo con con resolve non con reject immediatamente ogni tanto può venirci utile però lo vediamo magari quando ci capita c'è tutta una specifica di come funzionano le promise è una cosa abbastanza standardizzata se andiamo a pensare a tutti i casi particolari non finiamo più però diciamo che a livello base ogni volta che facciamo un passo di quella catena c'è una nuova promise esatto quindi l'osservazione è assolutamente corretta arriviamo all'ultimo argomento e poi vediamo di di provare col database con anzi forse possiamo già farlo in verità non mi ricordo più a che punto l'ha inserito ah no l'ha fatto alla fine vabbè allora lo facciamo alla fine questo argomento è un po' più semplice perché è una conseguenza delle promise di prima visto che diciamo appunto queste promise hanno preso così tanto piede sono così tanto utilizzate a un certo punto a una certa evoluzione del linguaggio javascript abbiamo detto con le S8 Exmascript 2017 sono state addirittura introdotte due keyword apposta per gestire le funzioni assincrone però non basta sconoscere le keyword perché sotto loro usano le promises e quindi se noi non sappiamo come funzionano le promises poi ci pasticceremo nella gestione delle funzioni assincrone con queste keyword è vero che ogni tanto ci semplificano ma ogni tanto non si possono usare così facilmente e dobbiamo comunque sapere come funziona quindi di fatto queste due keyword ci consentono di scrivere del codice assincrono basato sulle promise che sembra quasi codice assincrono perché vedrete che scriveremo await funziona e il codice fondamentalmente si blocca lì ma in realtà non è che si blocca consente del resto di essere adeguit per cui dobbiamo sapere cosa c'è sotto quindi detto in parole povere cosa fanno queste due keyword se noi mettiamo la keyword async davanti a una funzione questa automaticamente ritornerà una promise senza neanche che noi lo scriviamo esplicitamente e la conseguenza è anche che quando la chiamiamo dobbiamo chiamarla con la keyword await se vogliamo che il codice si fermi nel momento in cui la promise fino a quando fino a quando until fino a quando la promise è risolta o rejected quindi ha successo oppure c'è un errore però il fatto che noi scriviamo una funzione che ho scritto davanti async fa sì che la risposta cioè la valore di ritorno sia una promise e fa sì che quindi possiamo scrivere tutto quello che abbiamo visto prima punto then punto catch eccetera come nell'esempietto qui sotto const sample function uguale async aperta tonda graph return test proprio banalissimo una funzione che ritorna una stringa non c'è niente di asincrono abbiamo scritto async davanti ritorna una promise e quindi io se la chiamo il valore di ritorno una promise posso scriverci punto then non avessi scritto async appunto then è un errore non esiste il metodo then su una stringa ma se c'è scritto async ha ritornato una promise quindi punto then posso fare in modo che venga eseguita una funzione questa è una maniera un po' criptica di scrivere però adesso arrivo no non c'è nessuna domanda è una maniera criptica nel senso che qui sarebbe stato molto meglio se avessi scritto aperta tonda che so param chiusa tonda freccia console log param diciamo che ho sfruttato il fatto che javascript fa molte cose in maniera implicita e quindi io scrivo console log senza le parentesi tonde quindi passo la funzione che è quello che passo una callback questa callback è console log e quindi quando gli darò un parametro quella me la stampo questo questo effettivamente se lo proviamo però non si vede niente async quindi definisce una funzione asincrona e quindi async function nome tutti i parametri che voglio tutto il codice che voglio è tutto uguale identico c'è solo scritto async davanti punto e funziona anche con l'aero function funziona con tutto come avete visto prima quando vedo async vuol dire che il risultato è una promise ok e vuole anche dire che nel momento in cui io la chiamo il codice statement tutto quello che ho scritto dentro viene eseguito in maniera asincrona che cosa vuol dire vuol dire che se io ho del resto da fare prima di eseguire quel codice faccio il resto come abbiamo visto prima cioè nel viso studio cosa tutto il resto del codice va avanti quando non ho più niente da fare c'è in coda il codice di questa funzione e viene eseguito questo codice ok await è un operatore nuovo appunto es8 introdotto questa versione di javascript che può essere usato per aspettare che una promise sia risolta in una maniera o nell'altra cioè resolve reject dovremmo dire fulfilled perché non sappiamo se ha successo o no notate bene può essere solo usata dentro una funzione async await blocca l'esecuzione del codice all'interno della funzione async fino a che la promise è risolta in una maniera o nell'altra quando quando la riprende l'esecuzione di quella funzione il valore dell'espressione quindi await una funzione è il valore di ritorno della funzione della scusate il valore non di ritorno della funzione ma il valore che mi dà la promise risolta che solitamente è anche il valore di quella funzione se la promise è il valore di ritorno di quella funzione se la promise è rejected occhio che qui non abbiamo la possibilità di scrivere punto catch il punto den lo risolviamo facilmente mettendo in uguale assegnando il valore o quello che vogliamo fare a sinistra e il punto catch non c'è e quindi occhio che quello che succede è che viene lanciato un'eccezione quindi qualcuno a livello più esterno deve fare un try catch ok quindi diciamo che è un meccanismo che va bene usare la wait nel momento in cui siamo ragionevolmente certi che funzioni tutto perché se no devo aggiungerci il try catch e allora forse non so magari a un certo punto finisce che il codice diventa più complicato notate che se il valore che segue l'espressione il valore dell'espressione che segue la wait non è una promise è convertita in una promise risolta è come quando scrivo async quella funzione a un return è convertita in una promise con la wait di solito chiamo una funzione e quindi appunto il problema siccome probabilmente chiamo una funzione async mi giaggia una una promise ma se per caso ci mettessi un valore per qualche motivo per esempio chiamo una funzione che semplicemente mi ritorna un valore automaticamente diventa una promise promise risolta per cui se sono sicuro che la funzione deve solo aspettare mi ritorna un valore non capiterà mai che vado nel caso appunto di una promise rejected e quindi posso ragionevolmente stare tranquillo che il mio modo di scrivere va bene non c'è bisogno del try catch c'è una domanda a wait blocca l'esecuzione significa che rilascia il controllo in modo da permettere la gestione di altri eventi che possono succedere nel frattempo esattamente proprio questo è il punto ad esempio l'utente che intanto sta usando l'interfaccia grafica esatto esatto è proprio così blocca ma l'interprete javascript non è che sta lì a fare nulla ha una coda di cose da fare se la coda è vuota sta lì a fare nulla se invece la coda ha delle cose da fare e comincia dalla prima cosa da fare che ha che possono essere le funzioni accodate che abbiamo accodato noi per esempio appunto nel momento in cui si è risolta la promise la den va a codare la funzione la callback che abbiamo passato non la esegue la va a codare perché magari cosa stessa facendo il resto oppure ha accodato qualcun altro per esempio l'utente ha fatto click e allora a funzione di quel click c'è da eseguire qualcosa ok quindi bene è vero che parlerà forse solo chi ha capito ma se qualcuno non ha capito dica non ho capito e ci fermiamo il necessario quindi esempio questo pezzettino di codice effettivamente possiamo poi provarlo però provo a fare un po' più in colla mi sa che non l'ho fatto comunque guardiamolo prima funzione resolve after two seconds quindi questa ritorna una promise risolta dopo che sono passati due secondi e notate anche quante permettetemi di dire porcherie consente di fare javascript noi sappiamo che dobbiamo passare una funzione con due parametri e se ne passiamo una con un parametro vorrei dire che si spera che l'altro non sia mai usato se no non lo troverà ci sarà undefined e salterà fuori un problema però possiamo fare anche queste cose qui sappiamo che noi siccome il codice l'abbiamo scritto noi non chiamiamo mai reject e quindi possiamo addirittura scrivere in questa maniera più abbreviata quindi non aperta tonda resolve virgola reject chiusa tonda ma semplicemente resolve resolve set timeout callback resolve resolved quindi passeremo una stringa della promise risolta dopo due secondi async function async call vabbè faccio un po' di stampe per vedere cosa succede calling result await resolve after two seconds console log results proviamo ci scriverà chiamandola async call calling passa in due secondi e ci scrive resolved perché è quello che abbiamo scritto qui che va nella promise risolta che è il valore di ritorno o meglio che è quello che ci viene fuori dalla wait ok la cosa interessante da vedere questo sembra codice sequenziale pur essendo asincrono cioè noi abbiamo trovato il sistema di bloccare far eseguire del codice asincrono scrivendolo come del codice asincrono ok quindi numero uno numero due notate bene che se io non metto async qui non riesco a eseguire questo codice perché perché abbiamo detto che per usare una wait nel codice di una funzione questa funzione deve essere di tipo async cioè deve ritornare una promise ok ok altra maniera è come prima è cambiato poco è cambiato che qui ho scritto punto den perché lo posso fare tranquillamente perché la sync messa davanti una funzione fa sì che implicitamente ritorni una promise e come faccio a dargli un valore alla mia promise e devo far ritornare un valore alla funzione che può essere ricordatevi qualsiasi cosa qui giochiamo con le stringhe perché così possiamo fare console log e stamparle ma potete ritornare degli array degli oggetti qualsiasi cosa den console log e quindi di nuovo come prima ci stampa quello che viene ritornato stampa end e non più result perché ho scritto diversamente c'è una domanda ma se result è una promessa come fa a stampare result se faccio console log result come fa a stampare result result è una promessa ok come fa a stampare result se faccio console log result è una pagina precedente sì qui non stampa result infatti stampa end nella pagina precedente non stampa niente non stampa niente stampa perché ho scritto qua result è il valore della promise risolta cioè la wait aspetta e ci dà come risultato il valore della promise risolta result non è lei dice che è una promise no result non è una promise result è il valore forse ho detto qualcosa abbiamo scritto qualcosa che non va the value of the await expression is that the fulfilled promise non è la promise e la promise risolta cioè vuol dire che è il valore non non la promise ok bene vedo che ok ci siamo è chiaro che abbiamo messo tanta carne al fuoco quindi bisogna digerirle un po' le promise ci va il suo tempo questo siamo assolutamente coscienti però prima iniziamo meglio è perché appunto così prima di tutto abbiamo qualcosa interessante da fare in laboratorio non solo giochi chiare con quattro array e poi appunto abbiamo il tempo di pensarci ripensarci ripensarci e appunto se ci sono dei dubbi o domande possiamo possiamo cercare di capire meglio se mettessimo un console log fu dopo async call dovremmo aspettarci di vedere stampato fu prima di resolved quindi lo mettiamo dopo async call fu prima di resolved quindi nell'altro sì sì sicuramente sicuramente in linea di principio fa bene a dire in linea di principio nel senso che console log è un metodo asyncrono anche lui quindi ogni tanto ci fa degli scherzi però diciamo che in condizioni normali in questi piccoli test non ci capita nulla perché l'input output incluso quello sul terminale è asyncrono sia in input sia in output però è giusto quello che dice il vostro collega cioè viene viene eseguito prima eh per forza perché resolved viene eseguito solo dopo due secondi perché finché non si risolve la promise non viene eseguito il resto c'è questa funzione bloccata qui e quindi il result non viene eseguito e il console log result non viene eseguito benissimo beh meno è che c'è qualcuno che magari anche più di uno se sono più timidi oppure non volete complicare troppo la chat ma va bene così ok quindi proviamo a a fare il passo ulteriore no abbiamo fatto le promise e abbiamo detto va bene punto den e c'è il codice da eseguire con la sync il codice di sinistra diventa quello di destra cioè make request è una funzione che ritorna get api data then fa qualcosa no allora io in questo qualcosa che voglio fare voglio logare cosa torna the api data e poi dire done vabbè un ritorno un po' l'ora di ritorno quel che mi fa quindi io voglio fare quest'operazione nel momento in cui ho finito get api data siccome get api data qui non c'è scritto ma è una funzione che deve ritornare una promise no allora posso scrivere punto den devo scriverci il codice da eseguire nel momento in cui ha finito e questa è la maniera che abbiamo visto fino a un attimo fa con la sync io scrivo async e poi scrivo il codice cioè questo qua quello che scriverai nel den no e poi e poi semplicemente vado a a chiamare la funzione no ah scusate no metto la wait ecco perdevo un pezzo metto la wait e quindi faccio fare il console log quando get api data sono sicuro che ha tirato fuori i dati di cui aveva bisogno per esempio è andato a parlare su server li ha scaricati ha fatto qualsiasi cosa e quindi ho fatto diventare il mio codice un codice fondamentalmente sequenziale in cui so che ad un certo punto mi blocco e come diceva il vostro collega scrivo a wait e quel codice si blocca e lascia libero l'interprete javascript di fare del resto fino a quando non ci saranno i dati per dare un valore di ritorno a questa espressione per esempio una stringa un oggetto un array quello che volete adesso qui è una stringa per fare un esempio ci facciamo console log beh non è detto che sia una stringa questo è qualsiasi cosa console log stampa un po' di tutto però tipo API data tipicamente magari che so è un oggetto un array con i dati che siamo andati a ricavare sul server domanda il console log della parte destra parte quando si risolve la promise di make request il console log della parte destra parte nel senso si avvia quando si risolve la promise di make request no parte nel momento in cui si risolve la promise della get API data blocco destro della slide sì sì quando si risolve get API data la esecuzione di questa funzione riprende quando riprende riprende nel momento in cui viene messa in coda sul appunto nella coda dell'event loop e e quindi quindi non sappiamo quando ma non abbiamo bisogno che sia risolta la promise della sync ok cioè se io avessi scritto qui make request aperta punto den quello che scrivo dentro punto den richiede che sia risolta la promise corrispondente alla funzione async questa qui la quella senza parametri ma l'esecuzione di questo codice non richiede che sia risolta anzi si risolve implicitamente nel momento in cui io faccio un return ecco come dovremmo scrivere una catena di den adesso lo vediamo ok bene ha capito ok la catena di den ecco e giustamente è il passo successivo no 1251 si si è un po' stretti ma e quindi noi facciamo den den e quindi ovviamente assumendo che le funzioni ritornino sempre una promise posso scriverla in maniera sequenziale e quindi il grande vantaggio della wait è che posso processare le cose in maniera come se fosse codice sequenziale ma in realtà è asincrono perché quando c'è bisogno si blocca ma non blocco nessuno perché javascript può fare del resto se non fosse scritto in questa maniera bloccherebbe e non può fare niente altro quindi quindi io posso scrivere const issue i wait get issue e poi prendere questo valore che è un normale valore e passarlo come parametro a un'altra funzione fare un'altra wait e così via ma il valore di ritorno di make request ancora una promise se volessi usarlo devo fare make request den eccetera sì sì in quello di prima se volessi usarlo se volessi usarlo devo fare den sì quindi perché hanno scritto letter s secondo me hanno fatto uno sbaglio lo proviamo ma se voglio rest rest è la promise let rest uguale è la promise quindi non è non è perfettamente equivalente al codice di sinistro questo lo faccio presente ai colleghi se io voglio usarlo devo fare appunto den esatto perché se no in rest ci va a finire la promise prima che sia risolta esatto bravissimo ci ho trovato il bug grazie nel senso che volevamo fare due cose equivalenti ma effettivamente mi sa che non sono equivalenti quindi di nuovo esempio async await 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 questo codice mi consente di andare a chiedere fetch di nuovo metodo del browser per caricare un url poi la risposta resposte json che vi dicevo prima ritorna una promise vado a selezionarmi l'utente che mi interessa vado a fare un'altra fetch sulla base di quell'utente faccio tutto quello che voglio in 4-5 righe che sembrano codice sequenziale ma tutto a sincrono nel momento in cui ci sono il caricamento di un url dell'altro il parsing del json javascript è libero di fare del resto ovviamente se ha tempo quando ha finito viene accodato sulla coda dell'event loop e quindi l'esecuzione riprende ok ok grazie per la faccina quindi siamo verso la fine e anche del tempo quindi adesso abbiamo messo due cose in coda diciamo così le promise e la sync la wait quando le usiamo quando ha senso usare la sync la wait e quando ha senso usare le promise bene queste sono regolette pratiche da prendere come tutto quello che diciamo nel caso diciamo di una scienza ingegneristica con diciamo pensando alle conseguenze no però diciamo che tendenzialmente se abbiamo una seconda funzione che dipende dall'out o della precedente viene naturale scrivere con la wait devo aspettare tanto devo aspettare che lo metta nell'adeno che scriva wait devo aspettare comunque cambia un po' la gestione dell'errore questo ecco bisogna un attimo dare un'occhiata a quello se le cose possono essere usate in parallelo bene abbiamo eseguito in parallelo per esempio caricamento da web eccetera e non so cosa capita per prima ma non mi interessa promise all quindi promise viene naturale se cerchiamo di mantenere il codice asincrono piccolo perché perché comunque nel momento in cui entriamo in una funzione che esegue il codice quella deve essere eseguita fino alla fine e quindi se riusciamo a spezzettarlo in pezzetti più piccoli abbiamo più granularità e quindi nella coda dell'event loop possiamo andare a eseguire più cose quindi l'interfaccia utente è più reattiva e tutto quanto quindi se il vostro codice contiene codice bloccante è meglio farlo diventare una funzione async quindi fargli ritornare una promise e avete visto che è facilissimo basta scriverci async davanti cosicché chi chiama decide come gestirlo se aspettare oppure no se invece non lo fate se avete del codice pesante dovrete bloccante scusate non pesante dovete aspettare per forza quindi ecco venendo al nostro SQLite così arriviamo alla fine db run allora possiamo trasformare in una promise semplicemente con il meccanismo a sinistra return new promise abbiamo detto cosa si va per far diventare una funzione che ritorna una promise ritorniamo una promise return new promise resolve reject ifr reject else resolve e qui dunque questo era l'esempio proprio banale c'è niente da dire scrivo done se no ecco qui a destra l'altro esempio col select eccetera che è un risultato della database resolve il valore che voglio dare quindi rows zero tot era il numero di righe quindi select count asterisco tot vuol dire che ho una riga sola rows zero la prima riga che ha un campo tot e quindi tot ok resolve altrimenti reject e l'ho fatta diventare una funzione che ritorna una promise e quindi di fatto è una funzione async quindi automaticamente diventa una funzione async e quindi aggiustare quel codice che abbiamo visto prima a questo punto diventa banale no quella async e la await se io ho scritto quelle funzioni come async scrivo await insert await print e funziona tutto subito perché perché l'una aspetta l'altra automaticamente in questo senso come abbiamo detto un attimo fa async await sono la cosa migliore nel momento in cui devo comunque aspettare ok occhio al bug a qualcuno potrebbe venire l'idea di scrivere il codice in questa maniera preso dalla dalla diciamo foga di non lasciare mai le risorse aperte quando devono essere chiuse chiudiamo il database si può chiudere giusto chiudere tutto quello che volete occhio a farlo nel punto giusto qual è la soluzione corretta possiamo provare a fare questa domanda tanto siamo alla fine sì l'altra l'ultima slide qualcuno voglia di dirmi se la soluzione corretta è quella sinistra o quella destra la prima quella sinistra benissimo grazie bravissimi perché quella destra chiama main ritorna una promise e va subito avanti chiude il database è finito poi per colmo di sfortuna mentre facevamo le prove ci è successo una cosa ancora peggiore che quella a destra ci funzionava e funzionava perché chiudeva il database che non era ancora stato aperto però è concettualmente scorretta perché perché il codice viene eseguito prima di aspettare il risultato di tutte le altre operazioni ok ultima cosa poi vi apro l'esempio giuro che concludiamo SQLite 3 è il modulo che abbiamo usato per fare le prove e ne esistono n versioni n versioni di librerie javascript che sono in grado di interagire con SQLite vedete voi quella con cui vi trovate meglio ovviamente tra ci sono differenze per esempio SQLite rispetto alla 3 ritorna automaticamente delle promise quindi non dovete farvi voi il meccanismo della promise c'è anche questa SQLite async che penso sia ah sì è la versione SQLite 3 con le promise quindi questa è un'altra implementazione l'SQlite c'è la better SQLite 3 e questa è sincrona quindi questa non prende le callback magari giusto per provarla va bene e occhio che quando fate le cose sincroni bloccate il server quindi va bene negli esempietti così di prova ma non va più bene nel momento in cui dovete essere in grado di rispondere a tante richieste e potenzialmente alcune cose vi possono bloccare dunque c'è una domanda main.den dbclose sì quella avrebbe funzionato quello che è scritto sulla chat sì mi raccomando scritto come l'ha scritto è aperta chiusa tonda freccia dbclose perché se scriviamo dbclose basta non funziona perché viene subito chiamata quindi il codice andrebbe sempre scritto all'interno di una main async per poter utilizzare await sì sì in questo caso sì per forza devo scrivere async function main o insomma come volete se volete utilizzare la wait dentro dentro la vostra main perché perché abbiamo detto prima non si può usare la wait se la funzione non è async ok questo sì sì so che siamo al tempo massimo ma consentitemi di aprire proprio solo l'esempio che è già pronto queries promises che poi vi mettiamo online e quindi facciamo sparire questo come ecco che sparisce don't save quindi questo è l'esempio in cui facciamo quello che abbiamo scritto sulle slide db run eccetera resolve done resolve row 0 tot e facciamo await await eh e mi raccomando non fate questo questo errore eh proviamolo vi ricordo queries promises pro promises giusto per provarlo dentro il nostro ambiente di esecuzione run dunque spero che ci faccia vedere la console dove è andata a finire la console new terminal dovremmo aprirci tutto però temo che non ci abbia fatto le stampe quindi riproviamo ok ah qui ho messo tre per comodità solo perché stavo facendo le prove e quindi qui funziona tutto eh se mettete cento ovviamente andrà tutto e andrà tutto correttamente in ordine senza problemi senza duplicazioni non come prima eh vi ricordate che abbiamo fatto le prove non funzionano mi raccomando eh io ieri ho fatto questa prova e ecco per per fortuna non funziona eh però ieri quando facevo le prove ma questa questa non funzionava per forza con l'altra non funzionava appunto perché succedeva che appunto il DB era ancora chiuso perché anche la prima chiamata è asincrona eh quindi anche l'apertura è asincrona e quindi mi eseguiva tutto il resto del codice ma in questo caso non può succedere vedete cosa succede no eh ci succede che eh abbiamo una promise lanciata da qualcuno da qualche parte troviamo anche chi la lancia vero eh viene lanciata direttamente no mi sa che non lo possiamo vedere vabbè comunque succede che operiamo sul eh sì operiamo sul DB che è chiuso e quindi il risultato è che arriva eh una promise rigettata hm per esempio da questa await cosa fa l'await nel momento in cui la promise è rigettata lancia un'eccezione e e e e cosa succede eh nod non è contento e dice anzi in futuro occhio che eh vi faranno terminare i nod ok nel momento in cui appunto non non agganciate le le promise rejected o nel nostro caso alla fine questa è un'eccezione un'eccezione derivante da una promise rejected sulla await ok quindi adesso dobbiamo chiudere per forza perché probabilmente avete anche altre lezioni comunque se avete dei dubbi o domande ci siamo ci siamo sempre su Slack come avete visto abbastanza perlomeno e comunque nel prossimo laboratorio che è anche il primo lunedì prossimo che è solo online vi ricordo perché questa settimana va così eh proveremo qualcosa vi mettiamo poi il testo online prima del del di lunedì prossimo intanto riflettete su queste cose e credo che oggi pomeriggio dopo che il professor corno ha fatto anche lui la lezione perché il corso inglese ce l'ha il pomeriggio mettiamo online questi questi esempi ok non vedo altri dubbi o domande e quindi direi che possiamo terminare qui grazie dell'attenzione e so che abbiamo messo tante cose nella spiegazione rifletteteci bene e se c'è bisogno siamo sempre qui grazie a presto arrivederci terminiamo ok Grazie.